Molto bello esserci, la cosa più importante è esserci. E tra le avversarie che ci sono a disposizione? Sono assolutamente uguali, sono tre grandi squadre, quindi non c'è una preferenza, l'importante è esserci arrivati. Sognare è lecito adesso? Assolutamente sì, ma era lecito anche prima, noi ci pensavamo, è stata una grandissima esperienza, quindi andiamo avanti. Il calcio è quello che succede, hanno fatto una grandissima partita e sono stati puniti proprio sul traguardo quando ormai assaporavano la possibilità di giocare i supplementari, però il calcio è come la vita, adesso non vuole fare il filosofo, ma dà e toglie con grande facilità senza avvisarti, quindi quello che è successo a loro questa volta, altre volte è andato in un altro modo e altri possono dire la stessa cosa. Sulle polemiche per leggerla di governo? Esatto. Queste cose non ho, nulla da dire. Quanto la Roma non deve sbagliare il derby che arriva domenica? Quello che stiamo facendo è importantissimo ed è di grande valore. Sappiamo quanto è importante il derby, non solo per la classifica, ma anche per quello che rappresenta per questa città e per le squadre. Io sono assolutamente convinto che la squadra sia in grado e pronta per fare un ottimo risultato. Come vanno le trattarive per che mesi pensi? Presto, lavoriamo per questo.